pace e bene cari fratelli e sorelle bentrovati siamo quasi alla conclusione dell'anno liturgico e il vangelo ci parla delle cose ultime compresa la fine dei tempi tema che affascina che intimorisce che incuriosisce tema sul quale c'è una gran confusione in giro basti pensare a quante presunte profezie sulla fine del mondo o su imminenti catastrofi girano su internet e sui social anche di alcuni cattolici ora gesù usando un linguaggio apocalittico che non vuol dire catastrofico ma che nell'ambito biblico significa rivelatorio vuol farci capire qualcosa di prezioso in particolare prendiamo tre punti primo il fine di tutto gesù dice che in quei giorni dopo quella tribolazione il sole si oscurerà la luna non darà più il suo chiarore le stelle cadranno dal cielo le potenze che sono nei cieli saranno sconvolte allora vedranno il figlio dell'uomo venire sulle nubi con grande potenza e gloria egli manderà gli angeli e radunerà i suoi eletti dall'estremità della terra fino all'estremità del cielo gesù parla della fine dei tempi quella che noi chiameremo anche la fine del mondo anche però fateci caso il centro non sono gli sconvolgimenti cosmici che gesù non interessa dettagliare ma con questo linguaggio particolare gesù sottolinea il suo ritorno quando lui tornerà nella gloria avrà fine questo mondo inizieranno cieli nuovi e terra nuova con quella bellissima immagine dell'apocalisse e tergerà ogni lacrima dai loro occhi non ci sarà più la morte né lutto né lamento né affanno perché le cose di prima sono passate vedete gesù non solo ci dice che tutto avrà una fine ma soprattutto ci rivela qual è il fine di tutto che è lui tutto in cammino verso il compimento e quando ogni cosa giungerà a pienezza ecco il ritorno di gesù ecco la trasfigurazione della creazione cieli nuovi e terra nuova questo ci fa bene miei cari alimenta la speranza ci ricorda che non siamo in cammino verso la distruzione ma verso il signore noi non andiamo verso la morte ma verso di lui noi tendiamo a lui e attendiamo lui e le catastrofi le guerre le sofferenze che purtroppo ci sono e ci segnano non hanno l'ultima parola questo è importante la malattia la morte di una persona cara quell'evento doloroso che ti ha segnato e ferito non ha l'ultima parola l'ultima parola è cristo e lui l'alfa e l'omega il principio è la fine lui ha vinto il male e la morte perciò l'ultima parola ce l'ha lui ce l'ha la vita perciò miei cari non possiamo essere profetti di sventura ma annunciatori di speranza noi siamo i figli della risurrezione al contempo gesù miei cari ci ricorda che anche tutto avrà una fine noi compresi questo anche ci fa bene perché ci può aiutare a ridirezionare i nostri passi a rivedere la nostra vita interrogare la nostra vita ponendoci nella prospettiva della fine e un ottimo esercizio spirituale che può aiutarci a ritrovare le giuste priorità e il senso delle proporzioni che a volte smarriamo quante volte sacrifichiamo cose importanti e invece cose secondarie diventano essenziali qualche esempio anziché lavorare per vivere viviamo per lavorare perdendo di vista gli affetti per soldi o per presunte questioni di principio ci dividiamo gli uni dagli altri poi quando magari gli altri non ci sono più costernati ci chiediamo quale principio ci abbia guidati ecco miei cari perché ciò non accada abbiamo questa parola importante che ripeto ci ricorda non tanto e solo che tutto ha una fine ma soprattutto qual è il fine gesù secondo punto dalla tribolazione alla vita nuova vedete il discorso escatologico di gesù al capitolo 13 del vangelo secondo marco intreccia almeno tre profezie una sulla fine dei tempi e l'abbiamo vista poi gesù si riferisce anche alla sua prossima passione morte e risurrezione fateci caso gesù cosa ha detto dopo quella tribolazione appunto la sua crocifissione il sole si oscurerà ci saranno sconvolgimenti cosmici pensate come hanno descritto gli evangelisti la morte di gesù dicendo che si fece buio su tutta la terra che ci fu un grande terremoto insomma ci furono sconvolgimenti davanti a quella che è stata la catastrofe più grande della storia dio messo in croce dalle sue creature e allora continua gesù vedranno il figlio dell'uomo venire sulle nubi con potenza e gloria che non vuol dire che arriva svolazzando sulla nuvoletta versione pubblicità della lavazza che tutti si bevono il caffè e beati in paradiso vuol dire che viene in una condizione gloriosa rinnovata e poi manderà i suoi messaggeri ai quattro angoli della terra infatti gesù è risorto è asceso al cielo nella gloria e inviato la chiesa e i suoi discepoli a evangelizzare non solo c'è una terza profezia che vi accenno soltanto che riguarda la distruzione del tempio di gerusalemme che accadrà nel 70 dopo cristo ad opera dei romani evento catastrofico che segna in un certo senso la fine di un mondo di un'epoca ma proprio a partire da quell'evento ecco che anche i cristiani escono da gerusalemme man mano si diffonde l'annuncio del vangelo miei cari qual è il filo conduttore tra queste profezie qual è la chiave per la nostra vita che quando tutto crolla proprio lì lui viene a salvarci vedete miei cari quante volte anche nella nostra vita i momenti di crisi si sono rivelati decisivi è simpatico perché la parola crisi nelle lingue orientali indica non soltanto un problema una tribolazione ma anche una occasione pensiamoci quante volte quando si è oscurato il sole cioè non capivamo più il senso della nostra vita quando non avevamo pace ci siamo aperti a una ricerca più profonda quante volte quando sono venuti meno la luna e gli astri cioè quei punti saldi nella nostra vita può essere la perdita di una persona cara una disgrazia una malattia una delusione in amore ci siamo lasciati ritrovare da cristo o siamo entrati in una maggiore intimità con lui quante volte quegli sconvolgimenti che ci hanno inchiodato resettato ci hanno permesso di fare verità e riscoprire ciò che davvero vale che bello ricordare che il signore non ci molla ma anche nelle piccole grandi tribolazioni ci viene incontro per salvarci per stringerci a sé per aiutarci a crescere se ci lasciamo afferrare da lui se ci stringiamo a lui se accogliamo la sua parola mediante i suoi annunciatori potremmo sentire e scoprire che dietro ogni morte c'è sempre una vita nuova e che ogni tribolazione diventa una via di risurrezione gesù ci dirà cielo e terra passeranno le mie parole non passeranno mai cos'è che mi fa andare oltre il mio buio oltre le mie morti interiori oltre la morte stessa la sua parola dunque la relazione con lui il mio essere unito al signore infine miei cari gesù ci invita a imparare dal fico dice quando vedete che germoglia sapete che l'estate è vicina ecco quando vedrete accadere tutte queste cose sappiate che il figlio dell'uomo è vicino non passerà questa generazione prima che tutto ciò accada queste parole chiaramente toccano anche la nostra quotidianità da una parte ci ricordano che il signore potrebbe tornare in qualsiasi momento e noi non sappiamo quando tant'è che gesù dice nessuno lo sa se non il padre quindi è inutile andare appresso a presunte date sulla fine del mondo o profezie catastrofiche ma dall'altra parte gesù ci fa capire che il tempo è breve che lui è vicino che è importante saper leggere i segni della sua presenza il papa diceva che tutto il creato persino un granello di polvere ci parla di dio dunque dunque se il tempo è breve non abbiamo che l'oggi per amare ecco il nostro terzo punto san domenico savio diceva debbo correre perché presto viene la sera questo non vuol dire che dobbiamo farci prendere da un attivismo isterico ma che è importante vivere in pienezza il nostro qui ed ora non ho che l'oggi per amare il mio signore magari per ritornare a lui dopo tanto tempo lasciandomi riabbracciare nella confessione non ho che l'oggi per voler bene alle persone che ho accanto per dire una parola di incoraggiamento per chiedere scusa a una persona che ho ferito per portare avanti con amore e impegno il compito che mi è stato affidato ecco miei cari non abbiamo che l'oggi per amare perciò insieme a santa teresa di gesù bambino così vogliamo pregare tu lo sai dio mio che per amarti sulla terra non ho altro che l'oggi che importa signore se l'avvenire è oscuro mantieni puro il mio cuore coprimi con la tua ombra e non sia che per l'oggi cari fratelli e sorelle che queste parole possano riossigenare il nostro cuore ricordandoci che non siamo in cammino verso la fine ma soprattutto verso il fine che è gesù che lui c'è vicino e ci viene incontro soprattutto nei momenti difficili e che il tesoro più grande l'unico che possiamo accumulare e portare con noi è soltanto l'amore e non abbiamo che l'oggi per amare chiavi semplici ma preziose per vivere bene e camminare insieme sulla via del vangelo che il buon dio vi benedica pace e bene a tutti